Ultimo weekend per la manifestazione lucida artista a Salerno. Dopo il boom di visitatori per l'epifania, tanti turisti che hanno raggiunto il capoluogo da diverse regioni d'Italia, gli addetti al settore tirano le somme dell'edizione più complicata della Kermess, iniziata in ritardo e con tante incognite legate alla crescita dei contagi da Covid-19 e alla sicurezza di visitatori e cittadini. Noi dell'ex alberghiero tutto sommato non ci possiamo lamentare, abbiamo avuto parecchie prenotazioni, le disdette ovviamente con l'aumento dei casi Covid si sono avute, però rispetto all'anno precedente comunque siamo soddisfatti e abbiamo lavorato. Diciamo un 60% perché poi se calcoliamo le disdette che si sono avute nell'ultimo periodo, le prospettive erano davvero ottime perché c'era voglia di ripresa, c'era voglia di viaggiare, quindi avevamo da quando sono iniziate le luci davvero tantissime prenotazioni. Poi purtroppo un po' la paura, un po' i contagi hanno fatto venire meno queste prospettive che erano davvero ottime. Intanto si spera in una ripresa estiva. C'è tanta voglia da parte anche degli stranieri di tornare a viaggiare, quindi sicuramente il periodo più caldo dove i contagi diminuiscono, tutto è in salita, nel senso che siamo sicuri di continuare a lavorare e di proseguire. Già abbiamo delle prenotazioni per il periodo d'aprile in poi anche da parte di americani e stranieri che già l'estate scorsa si sono riavvicinati al turismo in Italia.